aù a ghico quella sa di a te si e che fai ci vai no ma secondo te cosa non ti piaccia e mi piace però mi tocca alzarmi venire da te magari c'è intenzioni strane mi devo spogliare no ma tu sei malato mi sa che ci vado io no 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 stai pure calmo e poi la c'ho tutta la mia uscita una pevisia c'ho tutta la pelle desquamata ho vergogna dai ti porto io qua in farmacia così ti fa una consulenza tanto è vicino questa è giusta per il giovane ventitresimo credete che risolvo certo che risolvi la farmacia sao è un luogo accogliente e familiare dove ti sentirai come a casa tua sarai seguito e ascoltato attentamente e riceverai tutti i consigli e le consulenze necessarie che fanno al caso tuo perché ognuno di noi è un essere unico farmacia sao salute serenità sorrisi andiamo andiamo puoi chiedere qui adesso e cosa è successo trauma distorsivo no mandronia ma ci sono anche i dolci sì noi abbiamo un vasto assortimento di prodotti senza glutine anche tipici della tradizione sarda come le seadas e color jones adatti ai palati sia dei bambini che dei nostri centenari fermo è congelato ma è allora aspetta eh sì nel frattempo ce l'avete non detto che mi coni no farmacia sao via giovanni ventitresimo numero 143 santa giusta beh ma allora chiedi tu ci sarebbe da passare la scopa ma ci sarebbe o c'è no no c'è c'è no no aspetta ciao ciao no che va beh sempre così finisce tengo a già fa la vamp questa scopa del puasai